L'8 e il 9 giugno si vota per le elezioni europee e mai come questa volta è cruciale partecipare per disegnare l'Europa che vogliamo. Noi del Partito Democratico vogliamo anzitutto un'Europa più sociale, a difesa della sanità pubblica a cui servono più risorse per abbattere le liste d'attesa. Un'Europa del salario minimo, che anche in Italia vuol dire che sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento. Un'Europa che creda nella scuola pubblica e che ci aiuti a moltiplicare in Italia gli asili nido. Un'Europa più verde, che continui nella strada degli investimenti comuni e blocchi invece i paradisi fiscali. Un'Europa che affronti l'emergenza climatica come grande priorità verso le prossime generazioni. Un'Europa dei diritti di tutte e di tutti, senza esclusioni e discriminazioni. Un'Europa unita, federale e della pace, per la pace e non un'economia di guerra. Per tutte queste ragioni, l'8 e il 9 giugno io vi chiedo, sostenete il Partito Democratico.